lo sport in collaborazione con c'è un solo posto dove trovare tutto per l'edilizia sacchi vittorino a mandrogne materiali edili piastrelle a redobagno serramenti e un professionale centro del colore con pronta consegna di tinte e smalti personalizzati sacchi vittorino dillo al tuo vicino quella di oggi sarà una giornata importante per lo sport alessandrino due grandi appuntamenti in ordine di tempo prima lo stadio Moccagatta verrà presentato nel corso di una conferenza stampa il nuovo allenatore dei grigi Gaetano D'Agostino lo scorso anno al Virtus Francavilla per il tecnico di 36 anni e per il suo staff un contratto biennale nel corso dell'edizione di questa sera le sue prime parole in grigio poi in serata l'inaugurazione e la riapertura del campo scuola ci sarà anche la campionessa Valeria Straneo finalmente ce l'abbiamo fatta detto perché il campo scuola è un luogo molto caro alle Alessandrini che da diverse generazioni fluiscono di questo servizio che oggi riparte dopo un attento lavoro di risistemazione e adeguamento che ne ha potenziato la qualità l'attrattività per lo svolgimento di allenamenti e gare secondo la migliore tradizione atletica alessandrina Nel 2018 la detrazione fiscale per la sostituzione degli infissi è stata ridotta al 50% Gol da Seramenti sino a fine anno ti garantisce comunque un risparmio del 65% Vuoi sapere come? 0143 88 29 13 Gollo Seramenti gli specialisti negli infissi Con la presentazione ufficiale è iniziato ufficialmente l'era Gaetano D'Agostino L'uomo allenatore dell'Alessandria si è presentato insieme al suo staff nel corso di una conferenza stampa Ci tenevo a esprimere comunque la mia gioia nell'essere qui ad Alessandria perché per me è una tappa molto molto importante sia per la mia carriera ma sia per il progetto del Presidente che ho sposato appieno durante un'intervista che ha fatto quindi era un progetto che dentro di me, al di là delle scelte che poi l'ultima parola aspetta sempre al Presidente è un progetto che a me è entusiasmato fin dall'inizio ringrazio il Direttore, ringrazio Alessandro sono comunque molto felice e molto carico nello stare qui e nel cercare di accorciare un po' i tempi spero che passino veloci per partire subito nella nuova avventura sicuramente dopo la presentazione comincia il vero lavoro che è quello di formare la squadra secondo le idee secondo il progetto che abbiamo tutti insieme accettato quindi sicuramente ci metteremo subito all'opera lo stiamo già facendo però al di là dei nomi che il nome è relativo ci stiamo concentrando soprattutto sulle caratteristiche umane e caratteristiche tecniche e tattiche dei giocatori poi sceglieremo il nome ad accompagnarlo il Presidente Luca Di Masi che ha spiegato il nuovo cammino scelto per i grigi e il DS Massimo Cerri che avrà il compito di allestire una squadra giovane e competitiva mi hanno proposto dei profili di allenatori abbiamo fatto una ristretta cerchia colloquiati insieme e il profilo del mister D'Agostino che è il mister che oggi presentiamo oggi si presenta lui con il suo staff veniva a partire inolare e ho trovato un grande entusiasmo grande voglia e grande voglia soprattutto di seguire questo nostro progetto una terminologia che non mi piace tanto ma questo nuovo cammino interpreso dalla società da me con grandissimo entusiasmo ho visto negli occhi del mister l'entusiasmo di cui avevo bisogno e quindi spero che insieme andremo lontano e ci porterà lontano anche lui il contratto con il mister sarà un condotto biennale sacchi vittorino dillo al tuo vicino l'attesa è finita questo annuncio è dedicato a tutti coloro che amano lo shopping di qualità domenica 17 giugno a grande richiesta arriva a Valenza per la prima volta l'unico originale vento mercato con gli ambulanti di Forte dei Marmi per voi tutto il meglio del Made in Italy artigianale con solo la qualità della tradizione toscana e italiana al miglior prezzo abbigliamento portoborse, scarpe, la migliore produzione di cashmere pelliceria, stoffe pregiate biancherie per la casa porcellane, bijoux domenica 17 giugno tutti a Valenza nella centrale Piazza Gramsci c'è il famoso evento mercato con gli ambulanti dei Forte dei Marmi la festa dello shopping più glemuro e conveniente con orario continuato dalle ore 8 alle 19 anche in caso di maltempo L'IOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica organizza da sabato 16 a lunedì 18 giugno ad Alessandria in Piazza della Libertà il Festival della Prevenzione e dell'Innovazione di Oncologia il programma prevede incontri con esperti guidati da giornalisti dimostrazioni pratiche di buoni stili di vita testimonianze e racconti gli specialisti oncologi degli ospedali di Alessandria e della provincia saranno a disposizione nelle ore indicate nel programma per incontri informativi con chiunque voglia avere informazioni di dettaglio L'estate è arrivata al Parco Aquatico Lavagello che ti aspetta a Castelletto d'Orba e se sei un centro estivo chiamaci al numero 0143 830691 o scrivici a infochiocciolalavagello.it per scoprire il prezzo a te dedicato Parco Aquatico Lavagello il divertimento a portata di tutti